Il partito sbagliato, si è tanto fascisti. Per cazzo pentino. Berlonia! 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 Il governo con i fascisti. Abbiamo fatto una legge per cui Formigonia in galera. C'era Formigonia ancora in giro, ha capito? Noi con quelli facciamo queste leggi. Voi che cazzo di leggi avete fatto? Nessuna. Bergogliatevi! Ha il governo con la lega! Bergogliatevi! Bergoglia! Ma voi finanziate come governo le missioni di pace, tra virgolette, all'internazionale. Pensi che fa la pace? Ma perché pensi che sono del PD? Ma, amico caro, quello che mi vergognerei è di stare in piazza il 25. Noi siamo antifascisti. Noi stai al governo con un fascista! Noi stai al governo con un fascista! Andiamo avanti, per favore, andiamo avanti. Eh, andiamo avanti, eh, andiamo avanti. Ma, 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 ma vergognatevi! Vergognatevi! Ma non c'è stata l'idea di lui! La democrazia! Il partito è sbagliato! Siete tanto i fascisti! Per cazzo pentino! Berlonia! 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 Abbiamo fatto una legge per cui Formigonia in galera! C'era Formigonia ancora in giro, ha capito? Noi con quelli facciamo queste leggi. Voi che cazzo di leggi avete fatto? Nessuno! Berlonia! Il governo coi fascisti! Ma perché ha fatto a prendere il gelato? Vergogna! 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 No, è fascista! Anche sei tu fascista! Sei tu fascista! Che impedisce la 방법a! Non me prego! Ma quale manifestazione è il problema? Sei tu fascista! Non mi da più! No, signore sei un fascista! Sei tu fascista! Non si manifesta! Non si manifesta! Cosa vieni a provocare? Perché provocare? Si ti manda a provocare, allora parliamone, allora parliamone, cosa gridi? Perché mi dai del fascista? Imbecille, imbecille, è 50 anni che vengo qui, non eri ancora nata quando avevamo la cassa ai fascisti, non rompere i coglioni e smettila. Grazie per la visione! Grazie a tutti!